...perché devono scrivere. Io so, sono sicuro, che qui in anteprima, alla Comandation Fest, ci spereranno qual è il finale di posto. ...perché, per favore, per favore, per favore, per favore. noi veramente voi direte che la nostra cooperazione sta al cuore perché come dice il compione noi ovviamente ci lavoriamo quanto umani, ci lo scambiamo e prendiamo opinioni, quindi questo porta la forza. Grazie. Allora, per consegnarmi questo premio, l'appendio speciale della nuova Mission Fest.